E' stato a Gela il presidente nazionale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani per annunciare che si svolgerà nella città del Golfo alla fine di maggio, nell'ultimo venerdì, l'Assemblea Nazionale dell'Associazione Angopi, che lui stesso rappresenta. Un'occasione importantissima per offrire a Gela la ribalta nazionale, promuoverne l'immagine, ma nello stesso tempo trovare soluzioni alle problematiche che riguardano la portualità locale. E' stata annunciata la presenza, oltre che di 90 rappresentanti dei porti italiani, di importanti personalità della politica nazionale e internazionale. Quest'iniziativa si va a Gela perché è stata fortemente voluta dal gruppo ormeggiatori di Gela e in modo particolare dal suo capogruppo, l'ottimo Vincenzo Cassiana. E si coglie questa opportunità, come si diceva, per aprire una finestra alle istituzioni, ai decisori pubblici sulle questioni che attanagliano, quindi cogliere questa opportunità per rappresentare le questioni che attanagliano la portualità gelese. L'evento è stato fortemente voluto dal gruppo ormeggiatori Gela. E' stato importante che l'Angopi abbia accettato di fare la sua assemblea quest'anno nazionale a Gela, perché si parla di un'assemblea nazionale dove si toccheranno tutti i temi della sicurezza a livello portuale, sia nazionale che europeo. Avremo circa 90 rappresentanti dei porti italiani, nonché autorità del nostro governo o loro rappresentanti che parteciperanno a questi lavori. Quindi sarà una finestra importante per la nostra città e qualcuno si renderà, sarà visibile il nostro porto o le condizioni in cui versa. Quindi approfitteremo di questa assemblea per far vedere le condizioni della nostra città. Diremo che Gela non ha un porto, non ha mai avuto un porto a livello sia commerciale che industriale. Industriale forse qualche anno fa, ma adesso non esiste più. Quindi diremo che Gela non ha un porto e sposteremo l'attenzione della loro assemblea qualche volta anche sulla nostra città. Soddisfazione è stata manifestata dal comandante della Capitaneria di Porto di Gela, Pietro Carosia. Ritengo che sia un'occasione importantissima, un trampolino di lancio per Gela, questo convegno che avremo a maggio dell'Angopi. Penso che potremo sfruttare a nostro vantaggio intanto le bellezze del nostro territorio e poi per poter ulteriormente portare a conoscenza delle nostre problematiche importanti politici a livello anche europeo. Quindi sono sicuro che sarà esclusivamente un vantaggio per Gela avere il convegno dell'Angopi qui da noi.